Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto oggi vi presento questa bellissima Golf 1.6 turbodiesel 116 cavalli nella versione Eigline questa è una vettura del 2017 con solo 66.000 km ex dipendenti Volkswagen direttamente dalla Germania la importiamo noi da oltre 30 anni questa vettura è molto accessoriata innanzitutto nel colore bianco ha i fari a led come potete vedere fendi in ebbia ruota in lega come vedete la vettura è perfetta non ha un graffio, non ha una riga sensori parcheggio avanti e dietro con il park assist quindi volendo al dispositivo che parcheggia da sola vedete che la vettura è in tonso andiamo a vedere gli interni eccoli qua guardate che bello andiamo a vedere un po' dappertutto pannelleria a vedere posteriore guardate guardate baule dispositivo carico passante nel baule andiamo a vedere la parte anteriore destra ecco qua fantastica 1600 turbo diesel a 116 cavalli quindi zero consumo guardate che bella allora andiamo un po' a vedere che accessori è questa vettura abbiamo vediamo un po' ecco qua questa vettura è dotata del navigatore quello più grande il navigatore pro con lo schermo grande abbassiamo un po' la radio poi abbiamo il keyless access quindi il tastino raffala a partire 66.000 km cruise control attivo Volkswagen lane assist che ce l'abbiamo qua quello che tiene la corsia specchietti richiudibili elettricamente fare automatici e fendinebbia clima automatico e sedili riscaldati tastino mode per andare a cambiare l'impostazione di guida se lo faccio vedere mettiamo in moto la vettura allora tastino mode vedete al driving mode selection quindi potete andare a cambiare la vostra impostazione di guida da sport normal eco individual se andate su individual potete andare ad adattare l'impostazione di guida vedete super veramente una macchina molto molto accessoriata con questo sistema qua questo navigatore qua è molto bello tutto touch non ha nessun pommello perché è il navigatore quello più grande che ha tutto il più bello questa vettura noi la consegniamo con guardate che interni tre anni di garanzia che valgono in tutta Italia in tutta Europa ovviamente è una vettura che la consegniamo con le doppie chiavi libretto di istruzione in italiano tagliandata olio e tutti i filtri lucidatura degli esterni sanificazione degli interni e libretto di istruzione in italiano la vettura la potete venire a vedere e provare a motta di costigliore d'asti il mio numero è 0141 96 92 14 e guarda che bello l'email è infochiocciolabiancoauto.it se avete bisogno di accedere a un finanziamento noi facciamo anche finanziamenti in sede ma i prezzi di tutte le nostre vetture non sono legati a nessun finanziamento quindi se voi vedete una vettura con un prezzo a 15,9 il prezzo è quello non è che per avere quel prezzo dovete fare il finanziamento per forza lo fate se avete necessità se no potete fare come volete venite a trovarci a motta di costigliore d'asti tra l'altro noi abbiamo anche una bellissima officina per darvi l'assistenza 360 gradi se la vostra macchina ha dei problemi grazie a tutti amici alla prossima